Sembrava una partita alla portata in una domenica di tranquilla routine per il calcio femminile a Cese, reduce da due vittorie di fila. Il chieti femminile sembrava la vittima predestinata, niente di più sbagliato. A buliche spente, le padrone di casa hanno subito iniziato a complicarsi la vita, passando inaspettatamente in doppio svantaggio nella quarta giornata del campionato di calcio di Serie A2 femminile. La squadra non solo non reagiva allo svantaggio, ma invece di organizzare una reazione ravviosa, come tutti si attendevano, continuava un gioco frammentario e privo di idee. E' solo all'intervallo che Mister Caniglia, con un paio di cambi azzeccati, sembra dare un nuovo vigore alla squadra che appare fortemente motivata a recuperare. Il chieti si chiude a riccio, non prova neanche a infastidire la difesa a Cese e organizza il secondo tempo proprio all'insegna della difesa ad oltranza. A complicare i piani della squadra ospite, l'espulsione per doppia munizione della Colasante e l'intuizione di Mister Caniglia, la sostituzione di Tosto con Risina, e il conseguente passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3, che sembra mettere le ali alla squadra di casa. Fabi Presenti si inventa un impossibile gol di sinistro dopo la ribattuta del portiere su tiro di Perotti, tre minuti dopo sorprendentemente il pari con un delizioso pallonetto proprio di Perotti. Al triplice fischio resta la soddisfazione per un pari acciuffato in extremis, ma anche la delusione per aver sciupato l'occasione di raggiungere il Pink Sport Bari al secondo posto. Grazie. 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 Grazie.